funziona? sembra di sì ok partiamo come vedete siamo ancora nel parcheggio della fiera ma adesso andiamo dentro in fiera sono le 9.40 abbiamo già fatto la registrazione anche per il muletto abbiamo già tutto completo vieni entra così intanto mi vedo questo daily a tre assi anzi noi ce lo vediamo questo daily a tre assi andiamo in fiera andiamo a caricare e poi via verso casa oggi è il 17 di giugno lunedì lo smontaggio è finito ho già sentito il cliente che si era messo d'accordo lui con i montatori appena entro quando sono dentro chiamo i montatori loro faranno la chiamata del muletto e poi scusa il tesoro mi infido io adesso sicuro che devi andare da questa parte se deve tornare verso l'autostrada e altrimenti se no andiamo insieme a tutti questa parte Grazie a tutti Allora, stamattina piovigginava, ieri sera aveva cominciato a piovigginare Curva affrontata male, non perché troppo sportivamente ma... Non c'era pubblico che potesse osservare una simile roba Dai, diciamo così Adesso Il gagnolino che zoppica Una zampa proprio non l'appoggia a terra, poverino Dai Vabbè, ci sono poi anche gli altri Ok Basta che gli fai vedere che hai il foglio della prenotazione E lui è a posto Infatti lui praticamente è lì per quello Se hai il foglio della prenotazione, entri Se non hai il foglio della prenotazione, ti fa girare e ti fa andare alla registrazione Semplice Terreno privato 30 km orari Ma qui vige la legge sulla strada tedesca D'onda per cui D'onda per cui D'onda per cui Torniamoci a registrare l'ingresso D'onda per cui Torniamoci a registrare l'ingresso Oggi mi hanno dato un adesivo rosso da mettere sul camion Avevo già il giallo Avevo già il giallo L'ho coperto con il rosso direttamente Così Così dopo Quando Quando tiro via Gli adesivi Gli adesivi Tiro via tutto in una volta Gli adesivi 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 Il carrellone Sarà venuto a caricare qualche Cassa Con qualche macchina Ci sono delle casse là più avanti Quindi lui sarà fermo lì Lui si sarà fermo Detto così proprio Questo allogino È un italiano che Wow Fai scappare da ridere Semplicemente Allora Io mi metto qua così Ragazzi Padova Gli adesivi Gli adesivi Gli adesivi Gli adesivi